Oggi inizia ufficialmente l'estate e con la giornata di oggi voglio anche inaugurare un trittico di video che arriverà qui nel canale con cadenza più o meno mensile e in ciascuno di questi tre video vi andrò ad elencare 20 film che secondo me è meglio guardare durante il periodo estivo anche se poi in realtà sono film che possono essere visti in qualunque momento dell'anno, anche a Natale però guardarli durante l'estate probabilmente aggiunge quel qualcosina in più che li rende un po' più affascinanti, ecco mettiamola così prima di iniziare rapidamente io vi ricordo di iscrivervi al canale come sempre fondamentale se volete aiutare il canale a crescere ancora di più lasciate anche il vostro mi piace a questo video commentatelo soprattutto anche con quelli che secondo voi sono i film da guardare soprattutto durante l'estate condividete il video ovunque vogliate così lo facciamo arrivare anche ad altre persone stimoliamo un po' l'algoritmo di YouTube detto questo io direi di passare proprio a questo elenco di 20 film di questo primo, quindi elenco, questa prima puntata nella quale in ordine sparso chiaramente non sarà una classifica non c'è nessun ordine in quello che è appunto l'elenco che vi andrò a snocciolare dei film in questione quindi film che possono essere visti durante tutto il periodo dell'anno durante tutti i momenti dell'anno ma guardarli in estate probabilmente è meglio allora per intenderci e cominciamo anche a capire la natura di questi film Tre Uomini e una Gamba voglio iniziare così a gamba tesa voglio iniziare col botto il film probabilmente più famoso anche di Aldo Giovanni Giacomo anche se forse non il migliore in assoluto ecco Tre Uomini e una Gamba è un film che io vedrei in qualunque momento dell'anno lo potrei guardare a Pasqua, a Natale, a Capodanno però guardarlo durante il periodo estivo probabilmente regala a questo film appunto un fascino tutto suo come spesso succede tra l'altro per i film on the road i film on the road sono dei film che si prestano parecchio a quella che è l'atmosfera estiva a quello che è il periodo estivo quindi guardare questo film durante l'estate probabilmente lo rende ancora più divertente ecco mettiamola così ancora più affascinante film che chiaramente io conosco praticamente a memoria quindi potrei tranquillamente doppiarlo per quante volte l'ho visto durante la mia vita l'avrò visto almeno una trentina di volte e sto anche tenendomi basso così per difetto nell'andare a fare una stima ecco Tre Uomini e una Gamba lo si può vedere sempre però ecco durante il periodo estivo probabilmente guardarlo aggiunge quel qualcosina in più rispetto a quando invece lo si possa vedere durante il periodo invernale procediamo con un altro film che anche qui è diventato un grande cult soprattutto degli anni 80 lo si può vedere in qualunque momento però ecco Dirty Dancing per intenderci visto durante il periodo estivo a quel qualcosa in più legato proprio anche forse ai momenti di maggiore spensieratezza che si possono vivere durante le serate estive durante le giornate estive e che fanno sì che questo film acquisisca appunto un'atmosfera ancora più sognante ancora più romantica anche il romanticismo chiaramente potrebbe prestarsi maggiormente al periodo estivo e quindi Dirty Dancing probabilmente uno dei film più romantici degli ultimi 40 anni ricordiamolo chiaramente con la presenza di Patrick Swayze grande protagonista quindi Dirty Dancing per quanto lo si possa vedere anche durante le festività natalizie o a Pasqua ecco guardarlo durante il periodo estivo forse in qualche modo regala al film quel qualcosina in più quella spinta in più ma anche in questo caso stiamo parlando di un film talmente noto talmente famoso e che io mi auguro abbiate già visto in realtà in passato ecco da poterlo conoscere praticamente a memoria e quindi guardarlo in qualunque momento dell'anno però ecco guardiamolo in estate perché non guasta ecco qualcosa in più riesce a darlo procediamo con un film horror quindi anche gli horror possono entrare in ballo in quello che è il periodo estivo e voglio appunto segnalarvi il film Old quello che è uno degli ultimi film di Emrah Shyamalan io so che questo film è stato come dire odiato da tante persone e criticato in maniera anche particolarmente aspra feroce da tanti io questo film l'ho apprezzato ovviamente non è un capolavoro non stiamo parlando del miglior film di Emrah Shyamalan ma è un film affascinante imperfetto soprattutto in quella che è la sua parte finale ora non voglio fare né la recensione né voglio spoilerarvi nulla questo film io credo di averlo anche recensito in passato tanto tempo fa quando uscì in sala però ecco è un film che si presta a quello che il periodo estivo fosse anche solo per l'ambientazione in questa isola dalle caratteristiche un po' strane un po' bislacche diciamo che succedono cose particolari si invecchia rapidamente all'interno di quest'isola e il fatto appunto di essere in un'isola deserta con il mare circostante l'oceano circostante e appunto tutta una serie di dinamiche che avvengono all'interno di questa comunità in quest'isola disabitata staremo a vedere se è vero così ecco fanno sì che Old probabilmente acquisisca un'atmosfera un'aura particolarmente interessante proprio durante il periodo estivo e tra l'altro se non ricordo male è stato distribuito proprio in estate qualche anno fa credo subito dopo la pandemia non vorrei ricordare male quindi l'ulteriore consiglio di questo video appunto è Old di M. Night Shyamalan che siamo arrivati quindi al terzo consiglio procediamo poi con un film italiano che in qualche modo mi fa quasi sorridere perché perché è un film di Vanzina e io non è che sia un grande fan di Vanzina però ecco c'è da dire che almeno un film i due lo hanno azzeccato quindi abbiamo un film che in qualche modo posso dire essere diventato un cult ed è Sapore di Mare chiaramente un film degli anni 80 che ovviamente non ha nulla di offrire da offrire da un punto di vista artistico ci mancherebbe altro però ecco ha quel non so che legato chiaramente anche a tutta una serie di dinamiche tipiche degli anni 80 ovviamente ben lontane da quelle che possono essere le dinamiche sociali inter diciamo relazionali che possiamo avere oggi però ecco Sapore di Mare ha quel sapore appunto quel gusto quel fascino tutto suo legato appunto agli anni 80 legato chiaramente all'estate e probabilmente ecco questo film sì probabilmente lo si deve vedere in estate non ci sono altri periodi dell'anno in cui può funzionare meglio se lo si vede durante l'estate magari ecco riusciamo a guardarlo con occhi ancora più benevoli per una pellicola che comunque come dicevo è diventato un piccolo cult italiano ormai da una quarantina d'anni a questa parte quindi Sapore di Mare ulteriore consiglio un altro film che io mi sento di consigliare proprio per quanto riguarda il periodo estivo anche se non è un film strettamente estivo fondamentalmente è A spasso con Daisy è un film ricordiamolo con Morgan Freeman Jessica Tandy un film che racconta la storia di questo autista nero chiaramente siamo nella America degli anni 50 se non vado errato quindi chiaramente bisognava fare i conti anche con il razzismo imperante che c'era in quel periodo però ecco la storia tra questa anziana donna e l'autista appunto il suo autista personale è innanzitutto una storia ormai diventata immortale mettiamola così per un film che probabilmente è stato anche sopravvalutato per molti aspetti anche agli Oscar ed è un film che per quanto lo si possa guardare durante tutto l'anno ecco anche qui durante il periodo estivo per me assume un senso tutto suo un'atmosfera tutta sua un fascino tutto suo ed infatti è proprio durante il periodo estivo che io amo rivederlo appunto di tanto in tanto anche se già sono diversi anni che non lo riguardo quindi dovrei un po' rispolverare la memoria quindi a spasso con Daisy film che comunque mi sento di consigliare un film di ormai una quarantina di anni fa più o meno ecco un altro film che amo rivedere durante soprattutto il periodo estivo è Karate Kid soprattutto il primo mettiamola così perché è quello che ha dato il via alla saga che poi sarebbe andata avanti nel corso degli anni e tra l'altro è in programma anche un altro capitolo proprio nei prossimi mesi o nei prossimi anni se non ricordo male il primo Karate Kid credo sia diventato un cult intramontabile per quanto riguarda il cinema soprattutto per ragazzi ma poi in realtà credo sia un film universale anche per quello che racconta con il maestro Miyagi ovviamente con Daniel Son come lo chiamava appunto lui stesso il grande Pat Morita ovviamente non lo possiamo dimenticare Ralph Macchio altro grande protagonista del film ecco anche Karate Kid per tutta una serie di motivi ma anche perché credo sia ambientato proprio durante l'estate assume un'atmosfera particolare un fascino proprio durante il periodo estivo quindi se dobbiamo proprio rivederlo rivediamolo durante l'estate durante questi mesi particolarmente caldi procediamo con un altro film che probabilmente non ha nulla a che vedere con l'estate ma fosse anche solo per il fatto di essere diretto dal regista che adesso sto per citare e per il fatto anche di avere delle ambientazioni molto calde in quella che è la messa in scena ecco il periodo estivo credo sia il periodo migliore per vederlo per rivederlo ed è Asteroid City di Wes Anderson film che a me non ha fatto impazzire più di tanto però devo dire anche che con il passare del tempo con il passare dei mesi lo sto anche rivalutando in positivo anche se continua ad essere un film un po' criptico c'è da dire in alcune sue caratteristiche in alcuni suoi momenti per quello che vuole raccontare però ecco se lo si deve rivedere probabilmente l'estate è il momento giusto proprio perché si sembra quasi di sentire l'estate durante la visione del film con questi colori caldi con queste tonalità calde colori pastello come sono tra l'altro tipici i colori appunto nei film di Wes Anderson ecco se lo si deve vedere per la prima volta o rivedere probabilmente l'estate è il momento giusto anche per poterlo apprezzare maggiormente film ripeto che non è stato probabilmente come dire un grande successo artistico e neanche commerciale men che meno però ecco potremmo riscoprirlo proprio durante l'estate Asteroid City altro film che voglio segnalarvi proprio per questo periodo dell'anno è Thelma e Louise di Ridley Scott un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto poc'anzi si ripete un film on the road perché abbiamo la presenza di queste due grandissime protagoniste due grandi attrici ovviamente Gina Davis da una parte Susan Sarandon dall'altra ricordiamo anche la presenza di un giovane Brad Pitt in questa pellicola una storia leggendaria a dir poco quella di questa pellicola un grande film di Ridley Scott degli inizi degli anni 90 e anche in questo caso proprio la natura on the road di questa di questa pellicola la rende maggiormente adatta proprio per il periodo estivo lo abbiamo detto poc'anzi i film on the road probabilmente sono i film migliori da vedere durante l'estate perlomeno personalmente parlando soggettivamente parlando mi affascinano maggiormente proprio durante il periodo estivo quindi Thelma e Louise nuovo consiglio che volevo darvi procediamo poi con un altro film che probabilmente è meglio guardare proprio durante i mesi estivi un film Pixar di qualche anno fa ed è Luca film che anche qui non è stato apprezzato da tutti chiaramente non è il miglior film Pixar mai realizzato nella storia di questa casa di produzione ma è un film gradevole un film che tra l'altro in una storia apparentemente banale apparentemente poco originale in realtà ci regala tanti spunti di riflessione legati alla integrazione quindi alla possibilità di essere accettati seppur diversi tra virgolette ci sono tutta una serie anche di piccoli piccoli easter eggs piccoli riferimenti nascosti nel film che secondo me lo rendono molto molto più intelligente di quanto non possa sembrare a prima vista e anche qui le ambientazioni tra l'altro il fatto di essere ambientato in Italia a Genova se non ricordo male comunque Liguria con chiaramente tutta una serie di momenti particolarmente luminosi lo rendono come dire facile da guardare e maggiormente apprezzabile sicuramente durante l'estate film che vi invito a riscoprire perché per me è un film molto più interessante di quanto non sia stato detto nel corso degli anni quindi Luca della Pixar film gradevolissimo procediamo poi con un altro film su delle tonalità completamente diverse c'è da dire perché è un film drammatico un film di due anni fa se non vado errato dell'anno scorso ecco non mi ricordo precisamente ed è After Sun di Charlotte Wells con la presenza come protagonista principale di Paul Mescal grande grandissimo film tra l'altro un film che è stato pubblicizzato poco purtroppo è stato distribuito peggio qui in Italia in sala ora se non vado errato credo sia arrivato anche finalmente in home video anche qui in Italia perché fino ad ora esisteva soltanto una versione inglese o americana è un film che vi invita a riscoprire è un film drammatico è una pellicola che fa respirare proprio l'atmosfera estiva ma non come si potrebbe pensare sì ci sono dei momenti anche apparentemente spensierati ma in realtà la storia di fondo è tutto tranne che allegra capisco benissimo che forse l'estate non è il periodo migliore da questo sotto questo punto di vista facendo questo ragionamento ma è un film ambientato in estate è un film che racconta la storia di un padre e di una figlia soprattutto durante una vacanza estiva vi invito a riscoprirlo grande grandissimo film e ve lo dico devastante da un punto di vista psicologico non vi dico altro l'ho anche recensito quindi eventualmente trovate nel dettaglio la mia opinione per quanto riguarda il periodo estivo sicuramente questo si presta anche alla visione di un film come Puerto Escondido film di Gabriele Salvatores è uno dei film che forse viene citato di meno nell'ambito della filmografia di appunto Gabriele Salvatores perché generalmente si parla anche di Mediterraneo Marrakech Express ma Puerto Escondido è quello che mi ha sempre evocato delle sensazioni maggiormente intriganti ecco ed è un film che tra l'altro risulta essere fantastico da guardare proprio durante il periodo estivo perché ci sono delle sequenze delle scene anche tutta una serie di ambientazioni di location che sono straordinarie sono meravigliose e io vorrei essere lì insieme ai protagonisti proprio durante il periodo estivo quindi film che anche in questo caso vi invito a riscoprire non vi fermate in qualche modo ai titoli maggiormente noti di Gabriele Salvatores se volete riscoprire la filmografia di questo regista Puerto Escondido probabilmente si inserisce tra i grandi cult di questo artista quindi Marrakech Express Mediterraneo soprattutto e non ha nulla da invidiare a quegli altri titoli comunque meravigliosi ovviamente ci mancherebbe altro procediamo poi con un film degli anni 80 che è diventato anche questo nel corso degli anni una sorta di cult generazionale ed è Stand By Me film tra l'altro ricordiamolo che trae spunto da un racconto di Stephen King che io vi invito a leggere perché tra l'altro è meraviglioso anche quello film questo davvero straordinario con questo gruppo di ragazzini che si mette in viaggio a piedi per andare alla ricerca di un cadavere che è stato in qualche modo visto diciamo identificato ai lati di un binario ed è un film che a raccontarlo davvero lo si sminuisce perché non si può in nessun modo come dire portare in parole tutto quella che è la bellezza di questa pellicola ricordiamolo tra l'altro con il compianto River Phoenix tra i protagonisti di questo film film davvero straordinario sognante affascinante ipnotico per molti aspetti nostalgico intreso di una malinconia di fondo che è davvero straziante film straordinario da vedere soprattutto durante l'estate ma è il classico esempio di film che si potrebbe guardare pure durante il periodo natalizio e andrebbe bene lo stesso però ecco durante l'estate secondo me è meglio procediamo poi con un altro film che vabbè ma che c'è da dire come dire trasuda estate da qualunque pixel da qualunque scena ed è mamma mia film di ormai una decina di anni fa con Mary Streep sugli scudi ovviamente poi abbiamo un trittico di personaggi maschili a dir poco indimenticabili tutta una serie di personaggi più o meno secondari ma che in realtà rimangono impressi nella memoria come le amiche appunto della protagonista musiche che sono diventate leggendarie ma a prescindere chiaramente da questo film perché sono le canzoni dei Yab nella realizzazione di un musical in salsa moderna perché credo che sia davvero uno dei musical più interessanti degli ultimi 30 anni mettiamola così quindi un film che mi entusiasma sempre e comunque è uno di quei film che mi mettono allegria soltanto già al pensiero e quindi ve lo voglio consigliare se non l'avete mai visto vi state perdendo un gioiellino niente male anche se non siete dei grandi fan degli Abba anche se non siete dei grandi amanti della loro musica lasciatevi trasportare dalla bellezza di questo film perché vi entusiasmerà non c'è niente da fare soprattutto poi se visto in compagnia se visto in estate ancora meglio mamma mia film davvero straordinario quindi è una sorta di mamma mia anche esclamazione per quanto riguarda appunto i film da vedere in estate voglio ricordarvi un film un po' passato in sordina di un paio di anni fa ed è Sundown film con Tim Roth protagonista principale ne ho parlato in una video recensione all'epoca quando uscì in sala quindi eventualmente andata ad approfondire film che è un film drammatico ve lo dico non è un film allegro quindi ci distacchiamo da quelle che sono le tonalità di mamma mia ma è un film molto interessante un film che poggia tutte le sue basi interamente quasi sulla prova di Tim Roth una prova tra l'altro come dire una prova attoriale per me davvero meravigliosa seppur non appariscente mettiamola così Tim Roth si conferma grande attore anche nella come dire messa in scena di personaggi di un personaggio come quello di questo film che in qualche modo si offre per sottrazione perché è quasi inespressivo per tutta la durata del film ma ci sono delle motivazioni ben precise perché il personaggio si comporti in questo modo ha delle problematiche familiari è costretto a rimanere nel posto in cui la famiglia è in vacanza seppur in realtà la famiglia poi è costretta a spostarsi per delle problematiche di salute di credo la suocera del protagonista ma vi invito a riscoprire questo film non se n'è praticamente parlato nel corso degli anni negli ultimi anni tra l'altro un film molto breve perché dura poco meno di un'ora e mezza quindi ritagliatevi un'ora e mezza del vostro tempo vi regalerete un gioiellino soprattutto apprezzabile maggiormente durante l'estate perché è ambientato durante le vacanze estive di questa famiglia quindi film da riscoprire senza dubbio procediamo con quelli che sono gli ultimi film più o meno che ci mancano innanzitutto voglio ricordare chiaramente il laureato chiaramente film che ha lanciato nell'Olimpo di Hollywood nell'Olimpo di quelli che sono chiaramente gli artisti che contano Dustin Hoffman ovviamente abbiamo Anne Bancroft anche protagonista Mrs. Robinson personaggio a dir poco leggendario immortale nella storia del cinema chiaramente ricordiamo anche la colonna sonora di Simon & Garfunkel un film che trasuda anche in questo caso estate da ogni pixel da ogni sequenza ma mi duole ribadire anche per chi magari si potesse annoiare è un film da vedere sempre a prescindere sì durante l'estate forse è il periodo migliore quindi se non l'avete mai visto beh recuperatelo quindi il laureato è un film da vedere almeno almeno una volta nella vita guardarlo durante l'estate sicuramente è meglio ma lo si deve vedere a prescindere grande film con un grande Dustin Hoffman ribadisco grandissima l'indimenticabile Anne Bancroft e poi tutta una serie di canzoni che sono entrate nella leggenda a partire da The Sound of Silence fino appunto a Mrs. Robinson ma che vi sto a dire pelle doca pelle doca procediamo infine con gli ultimi titoli credo che ne manchino ancora due o tre abbiamo innanzitutto un film italiano che voglio chiaramente citare ed è Il Postino chiaramente film con Massimo Troisi grande protagonista Philippe Noiré ovviamente nei panni del poeta Pablo Neruda è un film ma vabbè ma non credo ci sia neanche bisogno di doverne parlare perché Il Postino spero innanzitutto che lo abbiate visto film che ovviamente chiude purtroppo anticipatamente la carriera di Massimo Troisi che ricordiamolo morì purtroppo il giorno dopo la conclusione delle riprese e Il Solo Pensiero mi mette sempre i brividi perché lui non ha mai avuto la possibilità di vedere realizzato vedere come dire finito questo film quindi a lui è dedicato ovviamente questa pellicola ed è proprio anche questo che in qualche modo fa sì che Il Postino si tinga di una come dire di una tonalità malinconica straziante proprio perché sappiamo che Massimo Troisi durante la realizzazione di questo film già stava malissimo purtroppo ed infatti morì il giorno dopo la fine delle riprese quasi come se avesse portato a termine il suo compito avesse portato a termine l'ultimo grande film della sua vita film ovviamente anche qui indimenticabile e chiaramente anche qua il fatto che sia ambientato a Salina quella che è la storia raccontata l'amicizia col poeta Pablo Neruda l'amore vissuto anche dal personaggio di Massimo Troisi il tutto chiaramente fa sì che Il Postino si presti maggiormente appunto alla visione durante l'estate grande grandissimo film davvero indimenticabile procediamo infine con il penultimo film sì di questa carrellata vado vado leggendo sì siamo arrivati al penultimo film il penultimo film di questa carrellata in particolar modo è Little Miss Sunshine e ribadisco una cosa che ho già detto poc'anzi e cioè il fatto che i film on the road in qualche modo risultano essere particolarmente congeniali se visti proprio durante il periodo estivo Little Miss Sunshine è un film di ormai una ventina di anni fa e io davvero mi sento terribilmente vecchio ogni volta che ricordo questi anniversari perché io ricordo di averlo visto proprio quell'anno e già sono passati quasi vent'anni ma va bene film che mette tra l'altro in mostra il grande talento attoriale di natura non necessariamente comica come dire comico-demenziale di Steve Carell che proprio in quel periodo cominciò a farsi conoscere sempre di più proprio nell'ambito della commedia americana proprio nell'ambito della commedia demenziale ma nel corso degli anni lui dimostrò e ha dimostrato ampiamente di essere un attore a tutto tondo lo si intravedeva già proprio lo si intravedeva in Little Miss Sunshine nel quale ricordiamolo abbiamo anche la presenza di un giovanissimo Paul Dano quindi altro grande attore che probabilmente risulta essere troppo sottovalutato quindi cerchiamo sempre di riscoprirlo e di parlarne in termini positivi però ecco Little Miss Sunshine è un film meraviglioso è una commedia in qualche modo intelligente mettiamola così è un film che racconta questo viaggio di questa famiglia che deve portare la propria figlia la ragazzina ad un concorso di bellezza con tutta una serie di dinamiche che poi vi lascio scoprire se il film non lo avete mai visto se non lo avete mai visto però ecco durante l'estate probabilmente è il periodo migliore per poterselo gustare grande gioiellino grande cult probabilmente anche in questo caso della commedia americana da ormai vent'anni a questa parte e chiudiamo credo che sia inevitabile dover citare il film che sto appunto per prendere in considerazione in questa prima puntata perché perché è il classico blockbuster estivo è la definizione di blockbuster estivo e cioè lo squalo di Steve Spielberg ovviamente mi verrebbe da dire non credo che ci sia nulla da dire riguardo allo squalo non sono io sicuramente colui che deve presentare questo film non c'è nulla da aggiungere ormai da una cinquantina d'anni a questa parte lo squalo ha scritto la storia del cinema ha scritto la storia dei blockbuster estivi nasce il concetto di blockbuster proprio con lo squalo e davvero ha scritto la storia sotto tutti i punti di vista da un punto di vista tecnico registico per quanto riguarda la messa in scena la tensione che si respira sempre durante la visione di questo film anche se lo si rivede per la cinquantesima volta è inutile dirlo ovviamente proprio per il fatto di essere ambientato in mare in spiaggia in queste straordinarie ambientazioni particolarmente estive ovviamente è da guardare durante questo periodo magari non proprio quando si deve andare al mare ecco se proprio devo darvi un consiglio non lo guardate se avete in programma di andare al mare perché potreste in qualche modo lasciarvi suggestionare ovviamente si scherza ma lo squalo non poteva non essere presente in questa prima puntata di questa sorta di mini rubrica di questo trittico di video che mi permetterà come avete visto di elencarvi dei film da poter vedere durante tutto il periodo dell'anno ripeto perché anche lo squalo lo si può vedere a Pasqua e va benissimo comunque però ecco visti durante l'estate probabilmente assumono un sapore tutto particolare e chiudiamo quindi questa prima puntata in bellezza fatemi sapere che ne pensate fatemi sapere che cosa ne pensate di questa idea anche l'anno scorso tra l'altro avevo provato a fare qualcosa di simile ma regalandovi delle puntate settimanali siccome purtroppo mi ero reso conto di non riuscire a tenere il ritmo settimana dopo settimana quest'anno in qualche modo ho voluto prendermela un po' più libera e realizzare delle puntate a cadenza mensile quindi avremo queste tre puntate che ci accompagneranno da qui fino alla fine dell'estate quindi per avere anche degli spunti da poter prendere in esame se vogliamo regalarci anche delle visioni cinematografiche durante il periodo estivo quindi fatemi sapere che ne pensate qui sotto nei commenti io vi ringrazio come sempre per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video vi ribadisco l'importanza di iscrivervi al canale se non l'avete fatto quindi molti di voi guardano i video senza essere iscritti iscrivetevi davvero vi invito caldamente a farlo per sostenere questo video lasciate un like commentatelo condividetelo ovunque vogliate così lo facciamo arrivare ad altre persone ed infine vi aspetto su instagram su facebook e nel mio canale telegram trovate i link in descrizione noi ci becchiamo in un prossimo video in una prossima video recensione in una delle tante rubriche che sto portando avanti nel mio canale chiaramente ci vediamo con la seconda puntata di questa rubrica più o meno tra un mese quindi durante il mese di luglio io vi auguro come sempre una buona continuazione di giornata e ci vediamo prestissimo ciao a tutti ciao a tutti